Buongiorno a tutti, benvenuti, vi chiediamo scusa per questo disguido tecnico, siete stati bravissimi a ritrovare il nuovo indirizzo e vi chiediamo davvero di pazientare qualche minuto. Grazie a tutti, ma approfittiamo assolutamente per darvi il benvenuto a questo terzo appuntamento del ciclo di webinar che abbiamo costruito all'interno di un progetto Punta su di Te, che è un progetto della Fondazione CRC, che da diversi anni è attivo sul territorio, in stretta collaborazione con le aziende sanitarie CN1 e CN2 e i servizi per le dipendenti. Mentre aspettiamo che, come dire, ma state entrando velocissimamente, quindi grazie per questa prontezza e disponibilità, io lascerei la parola alla collega Manuela Ferrero per spiegare un po' meglio che cos'è Punta su di Te e perché siamo arrivati a costruire questi webinar. Prego Manuela. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono Ferrero Manuela, sono la responsabile del progetto Punta su di Te, che è un progetto nato nel 2013 e che appunto dal 2013 sta andando avanti e continuerà anche nei prossimi anni, grazie alle ASL CN1 e CN2. È un progetto che è entrato a far parte dei progetti direttamente promossi dalla Fondazione CRC e che vede come partner, oltre ai comuni delle Sette Sorelle, le ASL CN1 e CN2, in particolare i Dipartimenti per le Dipendenze, e CIS, il consorzio di cui faccio parte, e la cooperativa Social Airero, di cui fanno parte appunto Beppe e Manuel. È un progetto di prevenzione sulla patologia da gioco d'azzardo. Negli anni abbiamo fatto moltissime attività e iniziative sul territorio. Una delle iniziative più forti, più importanti sicuramente è stata ed è tuttora la formazione con gli istituti scolastici. Noi, in quest'anno di pandemia ci siamo anche noi adeguati, attrezzati per continuare a fare le formazioni online e diciamo che appunto da questa esperienza online abbiamo deciso di allargare il discorso del gioco d'azzardo, del gioco d'azzardo online e i rischi e opportunità del digitale attraverso appunto le competenze di Beppe ed Emanuele. Io non aggiungerei altro, Daniela se c'è qualcosa altro che vuoi aggiungere. Grazie Emanuela. Allora, intanto spieghiamo questi momenti informativi, questa occasione di webinar come occasione che la fondazione sta promuovendo in vari settori di intervento un po' come occasione per aumentare l'informazione e le competenze. Ovviamente in questo periodo come tutti sappiamo non possiamo organizzare eventi in presenza, utilizzare lo spazio incontri, ma sicuramente l'opportunità di utilizzare le nuove tecnologie ci permette di arrivare a più persone anche in contesti molto diversi e probabilmente a raggiungere un pubblico più ampio interessato ad approfondire la tematica. Allora, questo è un tema che è interessante e tocca da vicino tutti noi come mondo adulto, sia nel ruolo di insegnanti piuttosto che nell'essere genitori, nell'essere comunque parte di una comunità che vive e anzi ha maggiormente utilizzato nell'ultimo anno le nuove tecnologie che sicuramente possono essere, come dire, ambivalenti. Possiamo averne un'accezione estremamente positiva, possiamo esserne diffidenti, ma sicuramente ci dobbiamo convivere. Abbiamo organizzato questi incontri con una partnership importante che è Stedicam, a cui adesso lasciamo la parola perché sicuramente è importante per le persone che sono collegate ascoltarvi e lasciarti guidare un po' delle vostre riflessioni. Per cui vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci scusiamo ancora davvero per il disguido tecnico e lascio la parola a Giuseppe Masengo e a Manuel Pellegrini. Grazie. Grazie Daniela. Grazie Daniela. Benvenuti a tutti. Benvenuti al secondo livello che avete superato egregiamente. Il primo livello era… Ah, pensavo io. Ok. Questo era un livello del game, l'avete superato. All'ultimo momento, cambiare il link non è facile, ce l'abbiamo fatta e voi siete qua. Siete dei player e dei gamer professionisti, ormai lo possiamo certificare tranquillamente e oggi proviamo anche a vedere se riusciamo a ragionare insieme rispetto a cosa vuol dire essere saggi digitali. Come al solito, come le scorse volte, per chi era già presente la scorsa volta, vi chiederemo di interagire utilizzando la chat, potete farlo fin da subito, nel senso mandarci messaggi in questo momento anche proprio solo di saluto o se volete di maledizioni se non siete riusciti a superare immediatamente il primo livello del gaming, ma noi vi chiederemo anche proprio durante l'incontro di scriverci le domande che vi vengono in mente, le osservazioni che vi vengono in mente rispetto a quanto stiamo dicendo e rispetto ai video che vedremo, come la scorsa volta, come le scorse volte vedremo, avremo alcune visioni diciamo che ci servono come stimolo per ragionare proprio sui temi di cui stiamo parlando. Ema, brevissimamente direi presentiamoci a livelli di chi siamo, perché comunque potrebbero esserci partecipanti che non erano presenti nei primi due incontri. Vai, presentati allora. Sei simpaticissimo. Allora, io ed Emanuele, io sono Giuseppe Masengo, Emanuele è il mio simpaticissimo. Ah, presenti anche a me. E facciamo parte, facciamo una presentazione collettiva così, guadagnante. Bravo, bravo. Facciamo parte del centro di documentazione Steadicam che ha sede ad Alba ed è un centro che si occupa da più di vent'anni di media education e promozione della salute. Cioè noi lavoriamo per utilizzare i media a 360 gradi e ormai a giorno d'oggi dire media vuol dire utilizzare il digitale, in generale gli ambienti digitali, per promuovere salute, per fare interventi nelle scuole, per fare formazione a insegnanti, per fare formazione a operatori, serate rivolte alla cittadinanza, su numerosi temi, dal temi più legati al consumo delle sostanze, perché noi lavoriamo all'interno di un servizio per le dipendenze, ai temi legati all'utilizzo critica consapevole del digitale, a tutta una serie di temi legati proprio alle dipendenze anche comportamentali. Il gioco d'azzardo in questo momento, tutto ciò che è legato all'azzardo, è un tema molto importante, su cui stiamo lavorando all'interno anche di diversi progetti su territorio nazionale, all'interno del progetto Punta su di te abbiamo lavorato nelle scuole, abbiamo lavorato con la formazione di alcuni operatori e grazie appunto al progetto, alla fondazione CRC, siamo qua oggi per il terzo incontro di questo ciclo, pensato proprio per riflettere insieme sui temi del digitale. Oggi proviamo un po' a chiudere il cerchio, ma in realtà ne apriremo molti, perché siamo abituati a fare così, rispetto alle riflessioni che abbiamo fatto. abbiamo parlato di abitare il digitale in senso generale, abbiamo provato a trovare alcune parole chiave nel primo incontro rispetto al digitale contemporaneo, dall'on-life all'algoritmo, al ruolo del mercato, al fatto che il mercato cerca di catturare la nostra attenzione. La scorsa volta abbiamo approfondito il mondo del gaming, quindi siamo entrati nel mondo dei videogiochi, ci siamo lasciati con alcune domande che oggi riprenderemo, in particolare per chi era presente la scorsa volta, abbiamo visto uno struzzo che imparava a fare qualcosa e oggi lo rivedremo. Oggi l'incontro si intitola Saggi digitali, perché proviamo un po' a introdurre a ragionare su questo concetto, che cosa vuol dire, che cosa può voler dire saggezza digitale oggi. Proviamo a farlo partendo proprio da chi ha definito, chi ha coniato questi termini e non solo quello di saggezza digitale. E per introdurre tutto questo partiamo da un video che molti di voi avranno già visto, perché è un video che utilizziamo, abbiamo già utilizzato parecchie volte, ma è che è sempre interessante come punto di partenza. Provo a condividerlo sperando che tutto funzioni come funziona. Nel frattempo vi chiedo come avete fatto le volte scorse, ti interrompo Beppe per chiedere a tutti di interromperci. Interrompeteci pure in qualsiasi momento, non aspettate alla fine per le domande, ma fatecele mentre stiamo parlando dell'argomento, noi le riprendiamo e le riponiamo a tutto il webinar. Cerchiamo di essere il più dialogici possibile. 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 Allora, ecco, faccio partire il video. Vai tutto schermo? Allora, ecco, faccio partire. Le ho, ecco, faccio partire. Sì, 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 sì. eccoci allora abbiamo visto un bimbo nascere e immediatamente utilizzare le tecnologie per chi non l'ha visto perché per problemi di connessione e c'è il link in chat e quindi lo potete recuperare uno spot che dura circa un minuto partiamo da qua partiamo proprio da questa visione perché questo video secondo noi l'abbiamo utilizzato tanto anche negli interventi con i ragazzi è proprio una messa in scena molto funzionale nel senso molto molto costruita bene rispetto proprio al a quello che è il concetto eh di nativi digitali oggi parliamo di saggezza digitale ma prima ancora di ragionare sulla saggezza sulla saggezza digitale partiamo da questo concetto qua chi ha detto chi ha parlato di nativi digitali perché questo ragazzi questo bimbo che appena nato utilizza eh subito le tecnologie beh a qualcuno eh fa sorridere a qualcuno ovviamente potrebbe dare un po' di inquietudine eccetera ma sicuramente è una messa in scena perfetta di un concetto che è quello di dire i ragazzi quante volte l'abbiamo già sentito dire i ragazzi sanno usare le tecnologie sono più avanti di noi loro sui videogiochi sulle app sui social eccetera vanno come razzi io non ci capisco niente e quindi allora questa idea è un'idea che in realtà è partita è stata messa nero su bianco ormai venti anni fa perché siamo proprio nel 2001 da un autore che si chiama mark prensky eh che un autore americano studioso che ha coniato in un saggio digital natives digital migrants un saggio tra l'altro che si può trovare tranquillamente online eh l'idea proprio di nativi e migranti digitali cioè prensky nel 2001 ci diceva che la differenza è puramente anagrafica se sei nato prima eh di una certo anno lui parlava intorno agli anni 90 sei un migrante digitale non parlerai mai bene la lingua del digitale come quelli che invece sono nati dagli anni 90 in su che quindi sono nati immersi in questa tecnologia e che quindi la parlano in maniera naturale questa era l'idea dei nativi e migranti digitali di prensky un'idea talmente potente che è rimasta nell'immaginario nel modo di dire ormai comune per cui si usa questa terminologia dato poi origine a tutta una serie di ricerche di saggi eccetera eccetera ma è un concetto attenzione che se noi lo portiamo alle estreme conseguenze arriviamo esattamente nel video che abbiamo appena visto che è una situazione in cui il bambino non ha bisogno di noi cioè il vero punto centrale del video che abbiamo visto non è tanto il bambino ma siamo noi cosa fanno gli adulti in questo video in questo video il medico sviene i genitori non sanno che fare l'infermiera che non a caso ha un metà un pochettino più anagrafica più bassa trova un modo per fare delle cose il tipo la reseppia nell'ingresso è stupito cioè il mondo adulto in questo spot non interagisce con il bambino e quindi il bambino esce dall'ospedale da solo attenzione questa cosa viene promossa nello spot come wow grande conquista no born to be internet è un po lo slogan finale ma questo è chiaramente uno spot di una compagnia telefonica quindi ci deve vendere quella roba lì prensky ci invita a cambiare modo di ragionare e non ce lo dice adesso ce l'ha detto dieci anni fa perché a partire dal 2010 2011 anni tra l'altro in cui noi avevamo organizzato come stedicamo un convegno ad alba che si intitolava proprio nativi digitali bene proprio in quegli anni lì in cui si ragionava su questo su questi termini prensky ha riflettuto sulle sue sulle sue analisi e ha cambiato prospettiva e ci invita a non pensare più alla tecnologia come qualcosa che ci divide in termini anagrafici cioè se sei nato prima se sei nato dopo ci capisci qualcosa non ci capisci niente no ma ci invita a ragionare sulla tecnologia sul digitale come un grande terreno di dialogo e lo fa in un libro che poi esce nel 2012 che è la mente aumentata che a sua volta ormai è un libro che per certi versi dice delle cose anche forse superate o comunque che lasciano un po il loro tempo ma in realtà i concetti alla base della mente aumentata sono i concetti che tuttora animano il nostro lavoro con i ragazzi ed è l'idea della ricerca di saggezza digitale preschi fa un paragone interessantissimo all'interno del libro lui dice migliaia di anni fa l'uomo scoprì il fuoco e quando scoprì il fuoco ovviamente si trovò a dover padroneggiare una tecnologia potentissima che dava enormi vantaggi scaldarsi e far da mangiare i due principali ma che allo stesso tempo rischiava di ammazzarci allora cosa ha fatto l'uomo ha impiegato decenni secoli per sviluppare quella che lui chiama la saggezza del fuoco che noi oggi diamo per scontato cioè noi oggi usiamo il fuoco sempre ce l'abbiamo in casa ma ne facciamo attenzione a bise ci viene ovvio avvisare i nostri figli e da fare attenzione noi perché il fuoco brucia però non ci sogneremmo mai vivere in una casa senza il fuoco c'è senza la possibilità di utilizzarlo abbiamo sviluppato la saggezza del fuoco ma ci sono voluti moltissimi anni allora preschi ci sta dicendo questo ci sta dicendo siamo agli inizi perché davvero siamo agli inizi di un'epoca in cui dobbiamo andare alla ricerca continua della saggezza digitale andare a sviluppare una saggezza come quella del fuoco e preschi ci dà alcune indicazioni rispetto alla saggezza digitale la prima ce l'ha anticipata daniela poco fa introducendo l'incontro dicendo viviamo abitiamo nel digitale come abbiamo visto nel primo incontro e quindi ovviamente ci dobbiamo avere a che fare quindi sagge digitali e sono innanzitutto quelli che ci entrano dentro sostanzialmente non lo rifiutano a priori e questo vale un po per tutti i vari campi ancor di più aggiungiamo noi se hai compiti educativi perché pensare alla scelta di dire io voglio staccarmi e vivere tranquillo isolato senza connessioni eccetera una scelta che caspiterina potessimo ben volentieri ma se hai compiti educativi se hai dei ragazzi se a scuola se sei genitore eccetera questa scelta oggi è diventata sostanzialmente impraticabile allora preschi ci dice bene ragioniamo sulla saggezza digitale e la saggezza digitale è la capacità di farci domani cioè dell'utilizzare quello che ci viene proposto dell'abitare gli ambienti digitali ponendoci continuamente domando con quello che abbiamo fatto nei primi due incontri con un'avvertenza non possiamo aspettarci che i ragazzi più giovani possano porsi lo stesso livello di avere lo stesso livello di spirito critico che abbiamo noi adulti e questa spiegazione ce la dà molto semplicemente lo sviluppo degli studi sullo sviluppo del cervello ora né io né ma siamo esperti neurologi o studiosi del cervello però una connessione molto di base che ci permette di sapere che il cervello lo sappiamo tutti è un organo che si sviluppa nel corso della nostra vita e alcune aree del cervello maturano in età diverse bene questo ci fa sapere che un'area del cervello specifica è quella deputata al controllo degli impulsi all'autocontrollo quest'area è un'area che si sviluppa e raggiunge la sua maturità quando diventiamo sostanzialmente da maggiorelli vent'anni in avanti quando abbiamo 10 13 15 anni quella parte lì è ancora in sviluppo e tendiamo quindi ad essere magari più impulsivi ad avere meno autocontrollo non è né una colpa né un difetto eccetera fa parte della nostra crescita ed è a un compito evolutivo perché fondamentalmente è giusto dal punto di vista evolutivo che un adolescente rischi un adolescente faccia anche delle cose senza pensarci troppo ma allora noi dove siamo noi adulti non possiamo essere come nello spot che abbiamo visto prima sconvolti separati senza fare nulla il nostro compito è proprio quello di portare questo aspetto di autocontrollo di regolazione di ragionamento di anche di domande rispetto agli impulsi che ci capitano e di proporlo dal punto di vista educativo anche perché l'abbiamo visto bene nel primo incontro se andiamo in automatico facciamo il gioco dei mercanti dell'attenzione se andiamo in automatico facciamo il gioco del mercato e il mercato ci vuole sempre h24 lì sopra a fare una serie di cose senza pensarci troppo pensate ai siti di e commerce che ti propongono di comprare con un clic se io compro con un clic il tempo di pensiero in cui vado a autocontrollare il mio impulso wow che figo quella roba lì me la compro subito clic è già comprata il tempo per bloccare questa cosa non c'è il mercato punta a questo noi che abbiamo sviluppato quella parte di cervello perché siamo adulti abbiamo il compito di inserire questo spazio di ragionamento questo è solo un pezzo di quella che andiamo a definire come saggezza digitale perché qua dentro poi andiamo a mettere tante tanti altri aspetti tanti altri ragionamenti ovviamente io proseguo ma e ma tutte le domande le riflessioni che arrivano eccetera in qualunque momento mi interrompi e vai certo le teniamo vai ovviamente allora quali possono essere un po degli spunti delle delle regole ma in più che regole noi preferiamo parlare di consigli educativi che ci arrivano prima di tutto dalla letteratura cioè da chi negli anni ha scritto proprio delle riflessioni rispetto a come comportarsi nel nel digitale e non solo e vi proponiamo due o tre spunti proprio di riferimento con con i relativi libri a partire da uno che è il testo di sergio tisseron uscito già in lingua originale parecchi anni fa in italiano è stato tradotto più recentemente ma la traduzione italiana è arrivata solamente a metà degli anni 2000 2015 2016 ma il libro era precedente allora cosa propone sergio tisseron è che uno psicologo e psichiatra francese di fama internazionale lui a un certo punto ha deciso di lanciare la pietra nello stagno cioè vedendo che un po tutti arrivavano una serie di novità tecnologiche a ritmi molto alti e l'atteggiamento era vabbè allora a qualunque età va bene tutto proviamo a proporre a dare un proprio una linea guida c'è come ci approcciamo agli schermi lui non parla in maniera non parla solo di i videogiochi i social eccetera parla in generale di schermi e propone questo schema qua e lo semplifichiamo usando una un'infografica che è stata realizzata dal dagli amici del cremit centro di ricerca sui media dell'università cattolica di milano con cui collaboriamo da anni nello schema di tisseron l'idea è che sotto i tre anni occorrerebbe evitare l'utilizzo continuo massivo degli schermi perché il bambino ha bisogno di fare altro di costruire manualità riferimenti spazio temporale eccetera eccetera dopodiché possiamo iniziare a introdurre schermi ad esempio di visione di cartone animati vedo un DVD vedo un cartone alla tv vedo qualcosa sul tablet dopo i sei anni tisseron inizia a dire bene possiamo iniziare a introdurre il gioco elettronico dopo nove anni ti sono un palla c'è proprio un passaggio nella crescita del bambino che è un quello che viene definito come l'abbandono del mondo magico dell'infanzia e quindi uno sviluppo delle capacità più razionali su cui va molto bene poi iniziare andare a cercare ad esempio informazioni online quindi lui dice dai nove anni introduciamo l'utilizzo di internet e poi crescendo ancora di più ci si stacca dalla famiglia si cerca il bisogno sempre di più del gruppo delle relazioni sociale bene dai 12 andiamo introdurre i social network questo è lo schema 369 12 di tisseron e già lo vedete subito ma tisseron l'ha detto esplicitamente che è uno schema opinabile è uno schema su cui possiamo iniziare ad avere dei dubbi e soprattutto è uno schema che oggi quanto possiamo farlo valere se quando introduco un videogioco l'abbiamo visto la scorsa volta sono già in un ambiente social e sono già online come faccio a tenere distinte queste fasce d'età e infatti tisseron l'ha proprio detto questo non è vangelo questa è una proposta su cui continuamente confrontarci e discutere io vi do alcune linee guida che secondo me hanno senso dice tisseron e poi ci ragioniamo secondo noi e questo è un invito che vediamo il rispetto al alle riflessioni di tisseron mentre vedo un commento di maria cristina che ci dice proprio questo caspita è certo la dad che oggi è all'elementario anche i bambini più piccoli come la mettiamo insieme alle regole di tisseron esatto ma infatti il passaggio proprio questo che tisseron non si limita a dare 3 6 9 12 fine così ma propone questo viene spiegato molto bene nel libro e quelle che lui chiama tre le tre a che poi sono sostanzialmente tre consigli proprio educativi di come approcciarsi il digitale educare all'autoregolazione e l'abbiamo visto prima non possiamo pretendere che un bambino un ragazzo un adolescente si autoregoli in automatico perché abbiamo visto lo sviluppo cerebrale ci sta arrivando a quella roba lì e quindi io devo educarti a quello non solo alle regole ma imparare poco per volta ad assimilare le regole ea darti tu stesso dei limiti capendo il perché di quei limiti secondo punto che il propone tisseron educare all'alternanza cioè avere sempre più strade aperte più possibilità aperte e ragionare sempre sui sul bello il brutto di ciascuno dei media che utilizziamo quindi il videogioco la passeggiata il libro il film il servizio televisivo il concerto sono tutte possibilità diverse che io ogni volta vado ad alternare in modo da non restare solamente su uno cioè uno non deve mangiare tutti e di nuovo poi potrebbero escono fuori subito i ragionamenti sul tempo che stiamo vivendo dove l'alternanza è stata strettamente limitata e come faccio ad alternare se non posso andare fuori ma il terzo punto che per noi è veramente centrale su cui si basa anche tutto il lavoro che facciamo a stedicam e l'idea di accompagnamento tisseron lo dice chiaro e tonno dice come quando da bambini piccoli questo viene istintivo no da genitore lo facciamo un po tutti noi il bimbo molto piccolo e leggi insieme a lui un libro e leggere un libro insieme vuol proprio dire fermarsi sulle su ogni figura magari tornare indietro di due pagine perché c'è di nuovo quello e ripetere una cosa tante volte insomma quello vuol dire leggere un libro insieme accompagnare a un medium che è quello del libro questo modo di accompagnare lo possiamo estendere agli altri media agli altri ambienti digitali e non e quindi adottare una strategia simile di accompagnamento di essere presente di esplorare insieme aggiungerei di abitare insieme gli ambienti digitali che stendiamo i social che stendiamo la navigazione online che stendiamo quando vediamo telegiornale che stendiamo al vedere un film insieme vuol giocare un videogioco ma non è solo il giocare il fare delle cose insieme ma è proprio il far diventare questi spazi terreni di dialogo a tutti gli effetti allora ripeto il libro di tisserone è un libro che è già di alcuni anni fa però in realtà andatevi a vedere cose molto più recenti come ad esempio questo è un esempio che vediamo poi vi mettiamo anche il link in chat rispetto a questa questa guida l'unione dei consumatori pochi mesi fa ha creato una guida scaricabile online in pdf sull'utilizzo di tiktok e all'interno di questa guida c'è proprio una delle pagine finali che ci dice si dà una serie di regole che ci vengono proposte fate caso come la prima regola proposta è esplorate tiktok insieme poi ci sono le altre attivare il collegamento familiare quindi è possibile fare un collegamento tra gli account in modo che io genitore vedo cosa capita è possibile impostare l'account come privato è possibile stabilire alcune cose che possa non posso fare e va bene questa guida te lo spiega molto bene ma la prima regola proposta è esattamente l'accompagnamento di ti serve esplorare quest'ambiente digitale insieme esplorate l'applicazione guardate commentate insieme i video che compaiono cercate gli ultimi trend esplorate gli effetti filtri definite insieme i contenuti che si possono pubblicare questa è la logica di un ambiente digitale che diventa terreno di condivisione di esperienze e terreno di contratto di regole e navigando online proprio in questi giorni stiamo un po esplorando un'altra app che sta avendo molto successo che è il discord e manuel mi ha fatto scoprire proprio in questi giorni quest'altra sezione proprio sul sito di discord che la sezione dedicata ai genitori proprio con con i consigli che vengono dati ai genitori sull'utilizzo di questa con tutta una serie di proposte di dei ma di nuovo l'idea alla base è genitori figli esplorate questo mondo stabilite le regole segnalate limitate filtrati contenuti eccetera per vedere un po come funziona non so che cosa discord qua ci arriviamo arriviamo proprio al punto il punto alla base un po di di tutte le cose che su cui stiamo ragionando a questo punto vi proponiamo un altro video che butta dentro ancora un altro un altro aspetto relativo a quello di cui stiamo parlando di saggezza digitale questo vi spiegherà anche il perché state vedendo questi due simpatici signori alla insoglie eccetera a mezzo busto a mezzo busto esatto link in chat lo link tu bravissimo invece a condividervi il video questo è uno spot della nuova zelanda perché ci interessa uno spot della nuova zelanda e lo vediamo subito hiya i'm sue this is derick we here cuz your son just looked us up online you know to watch us matt matt darling there's some people here to see you so he watches you online yeah you know on his laptop ipad playstation his phone your phone smart tv projector yeah anyway we usually perform for adults but your son's just a kid he might not know how relationships actually work we don't even talk about consent do we never just get straight to it yeah and i'd never act like that in real life hey mattie you all right okay sandra stay calm you know what to do here all right mattie it sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real life relationships no judgment many young kiwis are using porn to learn about sex keep it real online get help and advice a keep it real online.govt.inz diventa sempre interessante chiedersi se uno spot del genere potrebbe uscire in italia perché è uno spot che prende in maniera prende di petto un altro dei grossi temi anna infatti ci scrive subito non credo però interroghiamoci proprio su questo aspetto perché in realtà questo spot della nuova zelanda che ci sta dicendo in maniera molto chiara molto esplicita keep it real online cioè genitori adulti parliamo con i nostri ragazzi rispetto a quello che capita online e nello specifico questo è uno spot che fa parte di una campagna per cui in realtà ci sono altri spot su altri temi ma questo affronta il tema della pornografia e ci sta dicendo ok adulto stai calmo se avete sentito la voce ok sandra stay calm stai calma e parla sai sai come fare questo è interessantissimo tu adulto lo sai come fare non avere paura e mettiti a parlare di quello di questo tema mettiti a parlare della sessualità vista attraverso la pornografia della rappresentazione della sessualità mediata dalla pornografia con tuo figlio con i ragazzi con un gruppo ma parlane perché questo è l'obiettivo allora questo ce l'ha detto uno spot della nuova zelanda che vedo dai commenti forse qua in italia faticheremo ad accettare o comunque sulle tv italiane se non altro non è andato in onda non c'è ma in realtà è il tema di un libro che è già uscito parecchi anni fa anche questo e che è un libro di un pedagogo famosissimo che alberto pellai e alberto pellai ci ha già detto nel 2014 con il libro tutto troppo presto esattamente le stesse cose per lei nel 2014 ci scriveva un libro che aveva come sottotitolo l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet e nelle regole anche lui propone una serie di consigli alla fine del libro ci propone proprio regola numero 3 parlate di tutto con i figli regola numero 6 non perdete tempo e non fate finta di niente c'è l'universo digitale in cui che abitiamo tutti i giorni quotidianamente e che come avete scritto in chat ho visto un commento al volo prima e senza limiti anzi è strutturalmente no limits perché ha proprio come parametro di riferimento l'infinito questa roba qua non ha limiti e di conseguenza dobbiamo essere pronti al fatto che molto probabilmente da qualche parte dei contenuti arriveranno ai nostri figli ai nostri alunni allora con chi ne parlano la domanda che ci poniamo sempre vedi qualcosa che che ti ha colpito che di cui con chi ne parli quali spazi di dialogo andiamo a costruire noi mondo adulto per non restare di nuovo come gli adulti del primo spot che abbiamo visto e quindi lì che non sappiamo che cosa fare perché altrimenti il bambino esce dall'ospedale da solo che poi va benissimo quando raggiunto una certa età ma quanto riusciamo ad accompagnarlo e quanto riusciamo a costruire spazi di dialogo su cui confrontarci rispetto a una serie di temi per lei si è concentrato nel suo libro proprio sul discorso della sessualità ma possiamo estendere il discorso che ne so alla violenza all'horror allo spavento alla discriminazione a tutta una serie di temi che vediamo tutti i giorni in un telegiornale che probabilmente i ragazzi fruiscono spesso nei videogiochi che girano nelle chat di whatsapp e ti arriva uno sticker e che fai con chi ne parli questa è l'impostazione il consiglio secondo noi molto centrato che propone per la e ripeto già nel 2014 quindi non ci serviva lo spot della della nuova gelanda per dire questa cosa ma la nuova gelanda ha saputo dirlo secondo noi in maniera molto potente e a questo punto torniamo alla luce di quello che ci siamo detti finora allo spot che abbiamo visto la scorsa volta e che ovviamente adesso vi andiamo a riproporre perché questo struzzo che abbiamo visto indossare il casco buara ci interessa ci interessa proprio molto è arrivato intanto una bella osservazione in chat di emana l'ho letta al volo ma mi sembra di che sia quanto sa un genitore adesso non riesco a vederla quanto sa un genitore di cosa c'è dentro youporn è il passaggio che vogliamo suggerire di poi dopo prima vediamo vediamo lo lo spot e poi cerchiamo di ragionare anche su quanto è consapevole rispetto a un'educazione sessuale un genitore o se non altro ci lasciamo ci lanciamo la domanda eccolo 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 dopo aver visto questo spot è proprio quella su cui ci eravamo lasciati la scorsa volta l'abbiamo lasciata proprio aperta e se tuo figlio è lo struzzo cosa fai? chiediamo di buttarci le vostre risposte a quello che vi viene in mente in chat tuo figlio è lo struzzo cosa fai? intanto Beppe riprendo anche un messaggio di Marco Berardi sulla saggezza digitale e ci chiedeva proprio questa cosa qui spesso i nativi digitali si scandalizzano se vedono un migrante vecchio come me il suo figlioccio a 11 anni si è meravigliato perché lui aveva un account su Instagram e ci chiede è possibile che sia un rifiuto dei più giovani a riconoscere il saggio beh Marco rispetto al saggio digitale io non metterei un'età cioè la saggezza digitale a differenza dei nativi quindi della concezione che si aveva prima non non cambia l'età non è che noi adulti siamo saggi digitali e i ragazzi no anzi sono i ragazzi che devono diventare saggi digitali o meglio dobbiamo diventarlo insieme continuando il discorso della condivisione e del dialogo insieme dobbiamo diventare saggi digitali perché questi perché insieme stiamo scoprendo il fuoco lo stiamo scoprendo insieme rispetto a tantissime altre cose l'adulto ha sempre avuto al di là della predisposizione celebrale ma le cose le ha già vissute in qualche modo e quindi può dare una traccia diciamo una via questa è la prima volta in cui stiamo vivendo un momento in cui noi adulti la rivoluzione la stiamo vivendo anche noi stiamo anche noi scoprendo il fuoco e quindi dobbiamo cercare di diventarlo assieme ci sarà sicuramente un rifiuto da parte dei più giovani certo perché ci vedono già vecchi qualsiasi cosa facciamo non solo nel digitale anche da lì si passa si passa dal dialogo come si approccia a me aveva colpito circa un paio di anni fa mentre facevo uno degli incontri nella stanza del gaming del nostro centro display che come abbiamo già un po' raccontato è uno spazio di laboratori dove i ragazzi finché potevano venivano in gita fisicamente da noi e facevano diversi laboratori nelle varie stanze nella stanza dei videogiochi che è quella che seguo io a un certo punto parlando proprio di videogiochi nella parte finale discussione uno dei ragazzi verso la fine mi ha detto una frase che a me è rimasta proprio impressa mi ha detto caspita non pensavo che un adulto ne sapesse di videogiochi anche io immediatamente gli ho detto ma tu chi pensi che crei i videogiochi ma chi pensi che arrivino questo è interessante perché a volte la percezione dei ragazzi è che il mondo gli spazi gli ambienti digitali che abitano siano fatti da gente come loro perché? perché percepiscono l'influencer lo streamer lo youtuber il giocatore di esports eccetera sono coetanei o leggermente più grandi e non vedono o non conoscono appunto tutto l'enorme mercato che ci sta dietro che è strettamente adulto e allora in realtà gli adulti ci siamo tutti dentro questo a livello di produzione ma anche a livello di uso magari cambiano gli ambienti ma poi ci troviamo ad affrontare tematiche molto simile il ragionamento su quando vado a vedere una notifica oppure no quanto mi limito rispetto a leggere le mail o al stoppare l'utilizzo del cellulare dopo una certa ora è un tema che riguarda tanto i ragazzi quanto noi adulti perché magari il ragazzo riceve la notifica dal videogioco e l'adulto riceve la notifica di mail di lavoro e stanno arrivando un mucchio di suggerimenti rispetto a cosa faremmo rispetto a sì sì i partecipanti hanno già un taglio educativo positivo lo chiamo io è bellissimo questo cioè qualcuno si aggrapperebbe alle ali dello struzzo e volerebbe qualcuno correrebbe con lui qualcun altro però timonerebbe la rotta cioè guiderebbe salterebbe insieme allo struzzo ma darebbe un po' diciamo la via qualcun altro metterebbe un cuscino diciamo che ci siamo nel senso che diventa qualcuno si chiede ma allo struzzo nel senso che diventa un influencer beh lì la tecnologia è rappresentata l'abbiamo usato l'altra volta con i videogiochi qui è un visore ma rappresentiamo il digitale lì dentro ok se mio figlio fosse Roberta che ci scrive se mio figlio fosse lo struzzo forse cercherei una sorta di cuscino per attutire l'eventuale caduta se fosse una caduta che mi appare rischiosa proverei a correre un momento anch'io per capire verso dove stai andando questa è davvero è un commento che va un po' riassumere tutta la serie di altre riflessioni che ci sono arrivate mi faccio insegnare da mio figlio mi scrive Stefania corro con lui ma ti mono la rotta cioè la cosa è che noi stiamo vedendo questo è interessantissimo quello spot di nuovo leggiamo sempre le rappresentazioni che ci dà la pubblicità con la doppia ottica ci stanno raccontando qualcosa del digitale ma ci stanno ovviamente anche inquadrando un tema sulla base dei loro interessi la Samsung non ha molto interesse che si crei comunità forse perché in questo spot se ci fate caso lo struzzo è solo infatti è bellissimo perché nei vostri commenti tutti voi questo è molto bello siete andati nell'ottica del corro insieme nello spot lo struzzo rimane solo gli altri amici coetanei gruppo adulti non lo sappiamo ma la comunità degli struzzi lo guarda e dice questo è tutto matto lo guarda cadere e nessuno l'aiuta e nessuno si incuriosisce a provare anche lui la tecnologia è un gruppo che sta lontano guardate che in quella comunità degli struzzi che stanno all'intorno e non fanno nulla si tirano in disparte e non entrano in un dialogo c'è tutta l'idea di nativi migranti di nuovo è lo spot del bambino con cui abbiamo aperto qualcuno sta andando in quel mondo e esce dall'ospedale da solo o vola da solo come lo struzzo noi stiamo lì a guardare e invece il suggerimento che ci viene dato che abbiamo visto da Tissaron da Pellai e di tutti i suggerimenti che ci state mettendo anche in chat vanno proprio in quest'ottica nell'ottica del e vabbè ma io provo innanzitutto a capire anche che cosa c'è all'interno di quei visori voglio capire dove sta andando dove vuole arrivare lo struzzo che se fosse mio figlio dove vuole arrivare lui me lo faccio raccontare lo condivido provo a fare un pezzo di volo insieme e provo anche direi a porre giustamente delle domande lì nessuno gli ha detto nulla è l'idea della tecnologia che si auto-apprende e che ci spalanca molte possibilità però da soli noi invece in senso educativo come genitori e come stedicam e quindi come formazione l'inserenza proponiamo sempre un discorso il più possibile condiviso una ricerca insieme della saggezza digitale che è l'idea di Prensky non l'idea della Samsung ma non è il caso questo è uno spot bellissimo ci piace un sacco ma è Samsung non è uno spot educativo non è quello della Nuova Zelanda di primo e tra l'altro bellissimo Andrea che ci scrive la saggezza digitale non è solo competenza tecnica è curiosità empatia limite conoscenza del mondo concordiamo perfettamente anche se ci aggiungiamo un pezzettino non tralasciamo del tutto la tecnica ma ci mettiamo sempre qualcosa vado a rimettere le slide ma così possiamo espandere un po' questi contenuti anche rispetto a questo aggiungo questa cosa qui una considerazione che leviamoci dalla testa che non ci siano delle vittime in questo senso siamo nel pieno di una rivoluzione siamo nel pieno di una rivoluzione e scopriremo nella prossima puntata che cose per utilizzarle sono sparito di nuovo sì ti sei frezzato ma proprio Ema nella frase siamo nel pieno della rivoluzione quindi ok il comandante no 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 era bellissimo perché io ho iniziato c'era gente che iniziava già ad abbonarsi a Netflix per vedere la prossima puntata e insomma vai 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 no il punto del concetto è un po' quello lì cioè qualcuno indietro rimane dobbiamo avere un buon paracadute in modo che chi sbaglia riesce a tuttire il colpo ma leviamoci dalla testa che anche solo seguendo queste indicazioni che ci stiamo dando cioè ragionandoci azzeriamo le problematiche è anche un problema di tempo cioè la nostra specie si deve abituare e io penso che lo facciano anche più ragazzi da soli perché vediamo la differenza è anni che lavoriamo con i ragazzi quando è iniziato abbiamo iniziato a lavorare sul digitale erano completamente spersi loro non sapevano da che noi adulti ancora di più ma adesso vedo già loro molto critici su molte cose capiscono già alcuni meccanismi che prima non capivano ma perché anche loro erano inizio quindi ci va un attimino di tempo per cui tutti insieme iniziamo a ingranare la cosa interessante è che bisogna andare molto più veloci cioè l'uomo ci ha messo migliaia di anni per imparare a gestire il fuoco qui non abbiamo tantissimo tempo perché tutto si evolve in modo esponenziale quindi dobbiamo stare sempre sempre aggiornati e per stare aggiornati dobbiamo sporcarci le mani in qualche modo dobbiamo vai scusami se ti interrogo ma no no non sei frizzato ci sei ci sei stavolta ci sei ma ho intravisto un bellissimo suggerimento che è arrivato da uno dei commenti non ho letto il nome ma tu forse lo riesci a vedere che ci suggerisce The Game di Barico Alberto Frasson Alberto grazie The Game è un bel riferimento per noi il libro di Barico uscito nel 2018 ma Barico sta portando avanti la sua riflessione che è proprio una riflessione nell'ottica di un cambio di mentalità un passaggio da quella che lui chiama una mentalità novecentesca che è quella forse in cui siamo cresciuti che è fatta di strutture anche molto rigide che faticano ad adattarsi e lui per questa cosa la trasporta proprio anche sulle strutture che abitiamo e che utilizziamo abitualmente dalla scuola alla sanità e di come invece il digitale prima e forse nella sua ottica anche la pandemia oggi stanno mettendo a dura prova questa rigidità novecentesca forse ci serve proprio una capacità di maggiore flessibilità e un nuovo modo di pensare con lui parla proprio di una nuova intelligenza che ci permette di stare all'interno di questi contesti e quindi l'approccio da dare da avere verso lo struzzo è proprio anche quello di andare a cercare insieme forse possiamo chiamare la nuova intelligenza di cui parla Baricco con la saggezza digitale di cui parla Presky e mettere insieme questi concetti che puntano verso una ricerca scusami Emma se ti ho interrotto adesso mi fregge niente figura no ero sullo sporcarsi le mani in qualche modo non possiamo intanto non conoscere non possiamo non informarci su quello che su dove abitano i nostri i nostri figli i nostri i nostri ragazzi quindi dobbiamo in qualche modo sapere ci sono due strade per informarsi una può essere quella personale allora sento qualcosa mi informo leggo vado vado online cerco di capire il funzionamento l'altra che è quella che utilizziamo a Stedicam è quella di farsi informare dai loro stessi dai ragazzi ci facciamo informare entriamo in in classe entriamo in un contesto in cui c'è un gruppo di ragazzi chiediamo a loro tramite uno stimolo è il metodo che utilizziamo a Stedica tramite uno stimolo che può essere visivo audiovisivo di raccontarci la loro percezione su un argomento può essere il gioco d'azzardo può essere il digitale può essere lo sport qualsiasi cosa tramite l'utilizzo del digitale scusate dell'audio video ci facciamo dire da loro che percezione hanno di quell'argomento ci facciamo raccontare da loro che succede all'interno delle chat di discord dei server di discord ce lo dicono loro stessi questa è una modalità molto veloce per informarsi perché l'adulto che si informa o sta sempre aggiornato man mano altrimenti alcune cose davvero c'è un gap ma questo è un gap informativo anche tecnico cioè se io non sono abituato a che non conosco certi termini devo andare a fare una ricerca più lunga per poter capire alcune cose coi ragazzi è fantastico dai uno stimolo e loro ti raccontano quello che sanno Beppe sei già andato avanti torna indietro di una sì anzi in realtà poi volevo proprio dire questo tu andarsi a provare vero? il secondo passaggio è buttarsi dentro provare cioè dobbiamo abitare anche noi gli ambienti che abitano i ragazzi a rischio che ci prendano per per dei per dei vecchi digitali ma dobbiamo esserli dentro che vuol dire che se TikTok sta spopolando io in qualche modo devo capire il perché e quel e quel perché me lo dà le informazioni dei ragazzi qualche informazione biografica o comunque qualcosa teorica ma devo sapere come funziona devo stare dentro anch'io che non vuol dire farsi tutti gli account di tutti i social ma quei due o tre quattro che sono quelli di utilizzo devo conoscerli è un po' come se negli anni metà degli anni 90 io non cos'era in tv io dovevo guardare in tv se avevo che fare con i ragazzi anche se non mi piaceva anche se l'ambiente in cui sto andando a provare mi disgusta in qualche modo non fa non fa c'è per niente devo comunque esserci per capire come funziona ma devo esserci con uno sguardo diverso devo in qualche modo quando poi dialogo con il ragazzo o con i ragazzi devo in qualche modo tirare giù una maschera un filtro sospendere assolutamente il mio giudizio che è anche giusto perché è un giudizio dato dalla razionalità di cui parlavamo prima del cervello evoluto di un adulto ma quando sono con i ragazzi devo in qualche modo sospendere il mio giudizio per lasciare che loro mi raccontino mi dicano e qui parte il secondo momento suspense dell'incontro cosa dirà dopo Emanuele lo scopriremo nella prossima puntata io ne approfitto dall'interruzione che Emanuele molto gentilmente e molto volontariamente mi concede per farvi notare come i tre termini che per noi veramente sono un po' riassuntivi del nostro modo di lavorare anche del nostro modo di approcciarci ovvero l'idea per cui ci informiamo proviamo qualcosa e poi andiamo a dialogare insieme quindi informarsi provare dialogare sono ovviamente remixabili nel senso che noi adesso li abbiamo messi in quest'ordine informarsi provare dialogare ma potremmo girarlo al contrario scopro qualcosa nel dialogo che ho con i ragazzi ah wow interessante un ragazzo lì mi ha citato questa roba che non avevo mai sentita andiamo a vedere che cos'è provo ampliamo il discorso cerco informazioni a noi capita spessissimo ma veramente di esempio ne abbiamo un bucchio nel 2016 un ragazzo di un istituto del territorio mi ha fatto conoscere Twitch nel 2016 Twitch l'abbiamo visto la scorsa volta nell'ultimo anno è cresciuto del 60% oggi è una piattaforma fondamentale quando parli con i ragazzi e non solo nel 2016 è un fenomeno di nicchia un ragazzo lì mi ha detto tieni d'occhio Twitch e io da allora ho tenuto d'occhio Twitch non sono diventato uno streamer nulla eccetera ma quando poi Twitch è iniziato diventare qualcosa che i ragazzi sempre più spesso mi citavano bene me ne aveva già parlato quel ragazzo lì e ho iniziato anche ad approfondire il discorso lo stesso rispetto al Discord che è iniziato ad uscire da alcuni ragazzi e che poi ci è servito andare a cercare una serie di informazioni e oggi andiamo proprio sul sito di Discord ad andare a vedere guarda propone anche dei consigli per genitori Fortnite la prima volta che ci è stato nominato quando eravamo qua a display io mi ricordo benissimo che la prima volta me lo sono segnato col nome sbagliato pensavo mi avessero detto Fortnite per la notte e dicevo ma che è sta roba cioè per dirti è ovvio che non possiamo stare perfettamente perfettamente aggiornati su tutto in tempo reale ma è ovvio come ci ha scritto molto bene Anna ma caspita i ragazzi sono una fonte continua di aggiornamento e lo schema informo provo e dialogo ribaltato dialogo poi mi informo e poi provo dialogo provo mi informo va benissimo sono tre tre punti che per noi sono centrali proprio nel nostro modo di approcciarci interrompo la condivisione per vedere se è riuscito a rientrare Ema Ema sei ritornato Eccoti scusami Ema ho approfittato del tuo freeze per dare un aggiornamento ma io ci rinuncio ci rinuncio vai tu vai tu ma chiaramente è un sabotaggio perché no mi piace tantissimo di nuovo il commento di Andrea che ci scrive ho sempre il dubbio che se non sei un utilizzatore appassionato qualcosa ti spuga sempre beh Andrea questo dubbio ce l'ho anch'io e mi è venuto ancora di più in questi ultimi in queste ultime settimane perché come centro stiamo anche partecipando a un'interessantissima ricerca promossa dall'agenzia dall'istituto di ricerca eclettica di Torino che sta portando avanti un progetto di proprio di indagine sulle percezioni del gaming e del gambling che è proprio un po' il tema anche del progetto in cui stiamo lavorando e per fare questo cosa sta facendo cosa stiamo facendo perché partecipo anch'io organizza dei focus group con dei gamer dei ragazzi appassionati di videogiochi ma anche proprio videogiocatori molto molto intensi ed è interessante sentirli parlare tra di loro perché Andrea è proprio e poi esce fuori di come veramente la loro conoscenza estremamente specifica e approfondita dei temi legati al gaming ti fa scoprire mondi ti svela ad esempio come in quel gioco che tu hai solo sentito nominare c'è un intero casino oppure in quell'altro gioco i punti le armi si ottengono girando una ruota della fortuna o come le loot box vengano percepite in un modo piuttosto che in un altro come ci sia un'etica da parte dei videogiocatori per cui un gioco in cui compro delle cose scioppo delle cose per vincere no non mi piace perché è da sfigaccia davvero lo sguardo di chi è dentro quella roba ti apre mondi però come ha detto Emanuel benissimo prima dell'interruzione quando ero frizzato quando ho detto quando ero frizzato era proprio il cliffhanger in cui ci hai lasciato del tipo cosa dirà adesso Emanuel beh proprio il punto per cui io per poter raccogliere questi punti di vista da appassionato da chi c'è dentro devo sospendere non posso partire dicendo ragazzi a me sta roba fa schifo ma ditemi che cosa ne pensate voi è ovvio devo fare un passo indietro e tenermi fermi questi tre punti dialogo provo mi informo remixati e ma io semplicemente rilanciato sul fatto che dialogare informarsi e provare sono tre pratiche che intreccio continuamente non c'è un ordine preciso sì e che non devono per forza portare a qualcosa cioè secondo noi il fine non è ok se non sono riuscito bene a informarmi dai ragazzi avrò sbagliato qualcosa già solo il fatto di parlarne questo aiuta tantissimi ragazzi a sviluppare la consapevolezza se io chiedo ai ragazzi ma perché ti piace TikTok le risposte che mi danno mi sono utili ma in realtà serve molto a loro a capire che ci si può chiedere perché ad abituarli a chiedersi del perché succede una certa cosa perché mi piace questo perché mi piace l'altro perché compro perché Google è gratis perché Netflix mi propone un documentario contro i social essendo lui stesso un social è un'abitudine a farsi delle domande e a crearsi un senso critico che arriva anche solo dal dialogo ma non dal dialogo ok ci siamo capiti bene adesso ma anche solo dal parlarne spesso i ragazzi ne parlano con i loro coetanei di queste cose ed è giusto è normale riuscire a uscire dal loro giro e parlare così come il ragazzo che ha detto a Beppe ma io non sapevo che gli aducchi scoprire che c'è anche un'altra categoria di persone che possono essere anche i genitori e gli insegnanti che ne sa e con la quale ne puoi parlare e secondo me è fondamentale per loro per sviluppare in loro proprio il senso critico per noi la postura deve essere proprio quella del tipo io ammetto tranquillamente di non essere l'esperto e imparo da te che ne sai ne più ma io mi pongo nell'ottica io a mia volta ti pongo domande c'è la nostra grande capacità appunto del cervello adulto che ha sviluppato una maggiore capacità riflessiva di autocontrollo è anche quella di porsi continuamente domande a cui magari tu non avevi pensato mentre tu vai su altri binari mi dai altre informazioni o mi dai un punto di vista come ha detto Andrea appassionato che a me era sfuggito e in questo modo si creano delle connessioni bellissime come ci dice Alessandra provando ho scoperto che Instagram mi piace tantissimo wow perfetto che non vuoi poi dire ah adesso Instagram va bene tutto ma vuol dire che io inserisco in quella roba lì anzi che vado a sperimentare una componente fondamentale di tutto l'abitare digitale contemporaneo che è il piacere oggi una cosa in qualche modo ti deve piacere e il bello di queste cose è che ti piacciono ma la nostra capacità di farsi domande è iniziare a chiedersi cos'è che me lo fa piacere così cioè non mi limito a dire mi piace ma inizio a chiedermi che cosa funziona lì all'interno che mi dà piacere questa è una delle domande che poniamo spessissimo ai ragazzi perché ti piace Instagram perché ti piace Twitch perché ti piace quel videogioco oppure al contrario perché non ti piace e terzo passaggio quello che dicevamo rispetto a Pellai che cosa ne fai di una cosa che non ti piace che cosa ne fai se incontri in un videogioco in un film in una serie tv un'immagine una situazione che ti ha dato fastidio è il senso del page nei videogiochi l'idea per cui io ti do un'età consigliata ma come ha scritto benissimo ed è bellissimo questo commento Tiziana che ci scrive rispetto allo struzzo io attenderei che torni per raccontarmi ciò che ha vissuto mi preoccuperei se non mi raccontasse nulla Tiziana questo commento è fulminante perché in realtà quello che spesso capita è proprio la seconda opzione io ho fatto il mio viaggio fantastico in GTA su TikTok o su Twitch e lo faccio quotidianamente e non vi racconto nulla ma perché a volte i ragazzi ce lo dicono io non racconto quello che faccio perché ho paura che mi sgridino oppure io non racconto questa cosa perché so che non va bene e lo spot della Nuova Zelanda ci dice esattamente questo ma cosa vuoi che io ti racconti della pornografia se so che la prima cosa che fai è mettermi in castigo o mi prendi per quando invece il discorso ci serve che lo struzzo torni e ci racconti che cosa ha vissuto però è difficile attenzione il consiglio che ci dà per l'ai parlate di tutto con i vostri figli non stiamo dicendo che tutte le cose che stiamo dicendo non stiamo dando per scontato ah vabbè è facile wow no ci poniamo continuamente dei dubbi e degli interrogativi in una classe con cui ho lavorato qualche giorno fa proprio parlando di peggi e di videogiochi di età consigliate un ragazzo a un certo punto mi ha detto aveva 13 anni mi fa ma io sto giocando a Resident Evil 6 che è un videogioco a me personalmente gli zombie non danno fastidio so che è tutto finto quindi vado avanti che gli dici smettila raccontami perché non ti piace tu a chi non lo consiglieresti cioè questi sono dubbi su cui io stesso ogni volta che mi capita una situazione del genere mi confronto e su cui non ho una risposta vorrei chiudere perché vedo che giustamente sono già le cinque eventi vorremmo però chiudere con un'ultima parola chiave un ultimo suggerimento che ci siamo dati rispetto proprio all'utilizzo a come approcciarci rispetto al dialogo con i ragazzi abbiamo proposto informarsi provare e dialogare e sono veramente i tre verbi cardine del nostro modo di lavorare come Steadicam ma aggiungiamo un quarto punto che per noi è centrale tutti gli ambienti digitali le app gli strumenti che abbiamo a disposizione sono fantastici per creare cioè possono diventare uno strumento creativo potentissimo pochi anni fa se non sbaglio nel 2014 è uscito un libro di Howard Gardner che si intitola Generazione App in cui lui ragiona esattamente in questi termini ci dice noi abbiamo due strade per utilizzare le app lui parla di app in quel caso lì ma possiamo estenderlo molto una è quella della frunzione passiva accetto criticamente tutte le regole del gioco che mi sono state date e non ci faccio nulla vedo quello che hanno fatto gli altri oppure le uso per farci qualcosa io ed è quello che proviamo un po' sempre a fare in tutti un po' i nostri laboratori nelle scuole piuttosto che qua a display piuttosto che anche a distanza proviamo in tutti i modi di far creare i ragazzi far creare i ragazzi vuole anche dire in maniera estremamente sintetica poi questo sarebbe un discorso da approfondire costruire un ragionamento sulle regole rispetto al digitale chiedere ai ragazzi quale vorrebbero trasformare in immagini e poi bene ragazzi avete mezz'ora avete tre quarti d'ora usate quest'app usate questo programma e create un'immagine per raccontare una regola a Cortemiglia un gruppo di ragazzi in una classe ha proposto un'immagine di questo tipo che è potentissima si sono messi in scena e ci hanno detto fai una scelta o dialoghi con me o guardi i messaggi ma l'hanno creato con una scenetta che hanno creato in un'immagine che hanno poi rielaborato e che hanno riassunto in una scritta questo è un messaggio un manifesto a tutti gli effetti in un'altra scuola questa volta siamo invece nel territorio dell'Emilia Romagna a Faenza uno dei suggerimenti che è arrivato è questo e di nuovo apre mille riflessioni stanno parlando agli adulti e ci stanno dicendo forse abbiamo bisogno che voi ci coinvolgiate perché se usate il digitale come babysitter qualcosa non funziona a Diano Dalba una classe ha creato questo che si racconta da solo hanno preso l'immagine dell'ultima cena hanno ritagliato uno per uno i vari cellulari hanno messo una scritta comunicativamente perfetta ed è diventato questa roba qua che ci dice una cosa semplicissima sempre di meno stiamo ragionando in termini di consigli sull'utilizzo del digitale in termini di limiti di tempo non ha forse più senso dire usalo un'ora al giorno usalo a mezz'ora usalo ha molto più senso ragionare nelle situazioni siamo nell'on life l'abbiamo visto nel primo incontro quindi non è che io mi stacco lo uso mezz'ora devo convivere devo trovare una sostenibilità di questo on life e allora quali limiti vado a porre nelle mie situazioni quotidiane a tavola la notte quando faccio i compiti i ragazzi a Diano Dalba ci hanno proposto questa cosa qua e in chiusura in una classe invece dove abbiamo svolto la formazione sul tema proprio del gioco d'azzardo abbiamo chiesto ai ragazzi di creare un video che vada un po' a rifar riflettere sul tema del gioco d'azzardo patologico beh un ragazzo ha creato questo lui è Bob Bob non ha le braccia Bob è triste non avendo le braccia Bob non può giocare alle slot perché non arriva ai pulsanti lui è Rob Rob ha le braccia Rob arriva ai pulsanti e quindi può giocare alle slot a differenza di Bob Rob vince e Bob sembra felice in realtà Bob soffre un giorno Bob ha un'idea si farà attaccare delle braccia Bob parla quindi con un medico il medico è d'accordo lui è Bob Bob ha le braccia Bob è felice perché ora può giocare alle slot Bob perde alle slot ma Bob Bob non demorde e chiede dei soldi a Calogero il cravattaro suo compagno delle medie Bob gioca con i soldi prestati ma li perde tutti perché ogni volta che vince rigioca e perde Calogero non è contento Calogero taglia le braccia a Bob lui è Bob Bob non ha le braccia ancora Bob è triste rieccoci eccoci usare la creatività e il digitale per parlare di temi di salute per noi può voler dire anche arrivare a fare una cosa di questo tipo grazie Beppe credo che i commenti che si sono scritti adesso in chat credo che dicono molto allora ovviamente vi ringraziano tutti e come dire insomma commentano la genialità di questo ragazzo rispetto a quello che ha fatto noi vi ringraziamo ovviamente ringraziamo tutti per essere stati collegati fino all'ultimo minuto speriamo che queste tre occasioni siano state di vostro interesse e ci auguriamo di magari ritrovarci più in là credo che comunque queste tematiche siano davvero molto interessanti e complimenti perché riuscite sempre a tenere molto alta l'attenzione quindi rimaniamo incollati allo schermo grazie a tutti grazie anche a tutta l'equipo ovviamente di Punta su di te grazie a voi mi spiace tutta una serie di commenti ancora scrivendo mi spiace interrompere ma insomma tutti molto positivi quindi benissimo sarà fatto buon proseguimento a questo punto a tutti grazie saluto anch'io tutti dal freezer e malo di tanto emerge diciamo che appunto sono 17.26 chiudiamo e insomma davvero anche rispetto a tutti questi ringraziamenti che stanno arrivando insomma sono per voi prendeteli perché sono più che meritati vi ringraziamo grazie di tutto grazie a voi di aver partecipato e grazie davvero al progetto Punta su di te e alla fondazione CRC per averci ospitato grazie buona serata a tutti arrivederci a tutti arrivederci